Un lungo corteo, circa mille le persone che sono scese in strada a Montevarchi per dire no alla guerra e dimostrare solidarietà al popolo ucraino. Questa manifestazione come le altre nasce dal desiderio di ribadire un fermo no a quello che sta succedendo, di promuovere il valore della pace e dell'amicizia fra i popoli. A colorare le vie del centro storico, bambini, ragazzi e famiglie per l'iniziativa organizzata dall'amministrazione comunale in collaborazione con i tre istituti comprensivi di Montevarchi. Abbiamo pensato che fosse importante per la nostra comunità intanto avere un momento di unione e di condivisione di un momento storico veramente doloroso. Un momento storico che ha colpito soprattutto le nuove generazioni che per la prima volta si trovano a vedere scene reali di guerra e non a leggere sui libri di storia purtroppo. E infatti oggi l'importanza di questa manifestazione sta nel coinvolgimento pieno di tutti e tre i comprensivi scolastici e dell'Isis Barchi, quindi della partecipazione attiva di tutti gli studenti, bambini e studenti del liceo che porteranno i loro pensieri, la loro testimonianza emotiva rispetto a questo difficile momento. Un momento quindi di raccoglimento che è una goccia nel mare ma una goccia che è importante che ci sia.